Eccoci, faccio la prova a microfono, la mia consueta è un bel porco di... Saronno a spingere le sue leve, siamo tutti uniti E girerò sul motorhome con tutti i miei amici E non avremo più problemi con tutti sti sbirri Li compreremo con le autografi per i loro figli Ciao! Ciao! Sono Federico, avevo 26 anni, abito a Rovello Porro Cosa fai nella vita? Tante cose, troppe Innanzitutto lavoro di giorno, commerciale in un'azienda aeronautica Fa attrezzature per i ricotteri La sera buono come il disc jockey in discoteca È il nome che usi in discoteca? Fedes, ma in realtà non mi piace Ho scelto a casa, obbligato Ma l'hai scelto tu o l'hai scelto qualcun altro? L'ho scelto io in base al nome di Instagram che avevo già Cosa rappresenta per te la musica e suonare? Tutto, tutto Ho iniziato a 15 anni, super a caso Faccio le cose a caso, poi mi piace Com'è che hai imparato? Da solo, autodidatta, facevo schifo Per Natale i miei non sapessero cosa regalarmi Ho guardato un catalogo sfogliando Mi fanno, guarda questa console, adesso va di moda La prendiamo, va bene Comprata La mia prima festa è stata quattro giorni dopo Che il mio saltatore Il capodanno già organizzato Ho suonato per otto miei amici in Taverna Da lì lungo percorso, lunghissimo Feste private Pur di suonare organizzavo feste Ho fatto delle feste che spaccavano veramente Ho cominciato a fare il PR Che suonavo poco Che era un piano, sono riuscito a farmi strada Ad oggi però hai suonato tanti locali diversi In quanti locali diversi hai suonato? Sapresti dire? Una quarantina Citarne qualcuno Donoma Club Nelle Marche Piacenza Lux Backlub Club Nelle nostre zone Penso a tutte le discoteche di Varese Saronno Black Greyhound Como Bellagio Quali sono i generi che suoni I tuoi pezzi preferiti? E se c'è un pezzo che inserisci sempre nella tua scaletta? Generi Pop Reket On Vince Ma House mi piace Il pezzo preferito Black Ateez Let's get it started Sempre Vissi Perché non l'ho scritta Quindi non Che ruolo hai all'interno di Habitat? Ho iniziato come DJ e adesso sto un po' gestendo le date Quindi una sorta di tour manager se vogliamo dire così Una serata che ricordi particolarmente? Questa è una bellissima domanda Mi ricordo di più Halloween che è appena passato Quello è stato veramente bello Un anedoto divertente caduto durante qualche serata? Mi diverto sempre Una volta che mi sono sbellicato È stato quando una ragazza Fino a fare fenomena chiedendo canzoni così Sultandomi praticamente Poi è caduta dalle scale Bevi quando suoni durante la serata? Sì ma dipende Se guido o no Capita che le ragazze ti rimorchiano Quando vedono che sei il DJ Anche mentre stai suonando Sì vengo lì a fare le scepe spesso Caro Federico cosa pensi di Steve Basalari? Non lo conosco ma spero metto in grande Number one Hai idea di quanti guest hai suonato durante le serate? Tutta la scena italiana Il viore? Marrakesh Quanto è importante la collaborazione in serata Tra vocalist e DJ? Tantissimo Si vuole creare qualcosa di speciale col pubblico Bisogna intendersi C'è un vocalist che ti segue solitamente? No, è ovvio Il mio socio affidato, Brandon Capita che tu magari hai una serata Visto che suoni spesso E il giorno dopo devi andare a lavorare Quelle situazioni stringo i denti E vado cazzo due Quante ore dormi quelle notti? Due Capita spesso? Prima una volta a settimana Adesso sto mollando Sto diventando vecchio Quante volte a settimana suoni nei locali? Di base due Altre tre Capita anche cinque Cinque locali diversi O magari sono più serate nello stesso? Molto spesso sono locali diversi Cerco di non fare mai lo stesso locale La stessa settimana Come ti chiami su Instagram? Fedes Un messaggio che vuoi lasciare? Dite sempre ai vostri amici che spacca Non vergognatevi Anche se fanno cagare No no Devi essere onesti Però se uno spacca Non bisogna essere mediasi Non laccare il culo Però Una situazione al contrario magari Che senso al contrario? Non te l'han detto? Non lo dicono quasi mai Cioè Me lo dicono i miei amici Me lo dice La gente che mi conosce Ma è difficile Con una che non ti fa Non ti dica Oh bello Mi piace quello che fai Tre in serata Ma su Instagram mai Penso che comunque Sia una soddisfazione Il fatto che Ti sono nato Praticamente ovunque Il tuo nome Spesso quando suoni È sempre sul fly Abbiamo iniziato L'obiettivo è Far crescere abito Per tutta l'Italia Per tutta l'Italia Cominciamo con l'Italia Ciao 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 Ciao